Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale, eccoci qui ragazzi oggi con un nuovo video, oggi andiamo a provare Payday 3 perché in questi giorni c'è la beta da provicchiare, il titolo uscirà a settembre, noi abbiamo avuto l'opportunità insomma di entrare nella beta e provarla tra l'altro è la prima volta che riesco a loggarmi quindi andiamo al volo perché tempisticamente non so quanto avremo per provarla ho visto un pochino diciamo di impostazioni più che altro, adesso andiamo a vedere se riusciamo a trovare una partita ci buttiamo direttamente per l'appunto in partita, è la prima volta che ci gioco quindi onestamente non abbiamo niente di sbloccato ma siamo pronti per sparacchiare eventualmente non so quanti di voi conoscano il gioco Payday però insomma dai le basi si sanno che fa rapinina non so quanti di voi conoscano il volo ok possiamo vabbè vediamo cosa riusciamo a fare sostanzialmente difficoltà, abbiamo normale, difficile, molto difficile e overkill normale andrei a dire penso che con il matchmaking ci metta comunque con altri giocatori quindi possiamo vedere eventualmente se si riesce a entrare nel vault nella cassaforte insomma la stanza della dove c'è la moneta vera vediamo vediamo se troviamo qualcuno con cui giocare anche perché come detto è una una beta quindi insomma penso che anche i server stiano un attimino testando cose noi invece già abbiamo trovato giocatori ci mettiamo io non so onestamente come siamo siamo pronti tanto non ci sta signori ci sta speriamo di non fare troppi troppi danni proveremo a rapinare come se non ci fossero domani vediamo vediamo voi li avete giocati gli altri Payday io se non ricordo male il il primo avevo provicchiato un pochino il secondo avevo provicchiato il primo avevo giocato un po' di più uno dei Payday comunque li ho l'ho spippolato e questo terzo capitolo uscirà come detto a settembre se non sbaglio il 21 sarà anche sul sul Game Pass come vedete c'è anche il si può attivare il crossplay quindi potete giocare anche in compagnia di amici che sono su altre piattaforme e vediamo vediamo un pochino questo è molto da da co-op ora nella beta insomma vediamo di andare randomicamente difficoltà normale che mi sembra anche giusto anche perchè è la prima partita cioè non abbiamo fatto né tutorial né niente anche perchè non c'è il tutorial eh lo so che è un po' ok il vault è pieno di monete stanno aspettando aspettando il trasporto ok e adesso sarà abbastanza complicato signori perchè entrando con altri randomici qui a fa le cose allora dobbiamo disattivare l'elettricità ma noi se facciamo così è eccessivo in linea teorica ma perchè a noi ci hanno messo in mezzo alla strada gli altri stanno belli ah no c'è il policeman allora aspetta va facciamo una cosa public area facciamo che posso andare pure io da un'altra parte eh scusa ah la c'è un policeman ok però vedi gli altri stanno già là aspettate proviamo a scusa a questo punto scusa ah la c'è una telecamera voglio pure capire come ma ci becca o c'è l'angolo scelto oh oh bella ma gli altri dove li ha messi li ha messi già dentro ma scusa ma perchè io so il salame che sta fuori ecco hanno fatto dei danni mi sa e ah ok ok allora ci dobbiamo mettere ok e ci siamo messi la maschera vai vai oh signori io provo oppela veloce allora la keycard mo dobbiamo vedere chi ce l'ha dove la possiamo trovare qua c'è una videocamera ah no con G mettevamo la maschera allora scusa io prima non l'avevo messa la maschera ce l'abbiamo un silenziatore lo so signori che qua al momento ognuno se ne sta andando un po' a di cazzi un mamma vediamo se riesco a raggiungere gli altri eh ma la guardia ando sta eccola ok ok eeeh aspetta ah quello sta qua sotto ok occhio che sta una guardia pure là ti serve una mano scuba occhio scuba attenzione ok ok aspetta quello si è sentito però ciò che è un momento che qua allora lì c'è scuba è qua no eh ma mi sa che ce l'aveva segnato al piano di sopra comunque stanno di là ok aspetta proviamo eeeh flip e che ne so ma dipende dal che colore il rosso sta credo no eeeh non so stato io eh corri 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 c'è su macello eh è stato qualcuno che non saprei eh ma questi so non so pratici del mestiere quindi ma non saprei ma questo aia però scusa eh cazzarola e niente si sono fatti beccare che è successo su macello ma no ma qua ma qua si lo so non sto capendo una sega ma la dermi per far esplodere roba ma qua già omicidi con la pala proprio eh come se non piovesse come se piovesse come se non piovesse aia aia a quello ho preso un ostaggio attenzione però lascia di qua fatemi capi eccola ce l'hanno portata ok dove la ok ok arrivo arrivo se riesco a trovare vabbè almeno proviamoci signori eeeh come la piazzo pronti state accorti eh mi sono incastrato attenzione allontanati trenas che potrebbe e do la piglio l'altra scusa me l'avevano ah eccole arriva oh no ma poverina ci hanno portato l'altra termite andiamola a prendere le scatene stanno qua no cazzo si sale dove è andato quello vabbè ce pensano loro eh mi cadevo via per forza io però se la mettono facciamo prima stanno pure qua oh merda 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 eh ormai la rapina è andata un po' no no questo ce l'ha con me eh mi serve uno che lo piglia che lo piglia alle spalle merda eh vabbè sta sta coperto avete piato? grandi oh dove danno a mettere merda ad ermita sta danno a mettere sta danno a mettere l'altra io spero che la sono andata a PA però se non vai voi andate bene questi dal tetto stanno arrivando no stanno ancora sopra le cose no mi spiace ma mi si è messo davanti occhio dai a ermita sta da PA però dove cazzo stanno le scale qua ok è piata? grande ce n'è un'altra? guarda non sto a finire munizioni credo e ribiamo? no no il cecchino corri corri dentro vai a mettere la termita invece te cazze già è buttata è buttata dentro vabbè così stiamo a fa proprio una cosa molto un po' in inglese un po' di poca coordinazione però no no questo non mi serve mi servono aspetta le munizioni però ce l'ho io scusa ok vai 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 oh no no penso mai si è sparato il mio alleato oh merda 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 eh una sola mi sa che ne possiamo porco due però che sta succedendo ma che avete lasciato i sordi merda merda dietro vai vai ma quello che sta a fa' ah si aprono pure queste cazzo dei bisoldini così damose eh però aspetta ce la facciamo di qua c'è un'altra uscita si eh almeno se stiamo uniti signori qualcosa oh merda se passa di qua questi soldi qua li ha lasciati ok eh però se occhio al cecchino colì là gli altri pochino no ma più che altro vorrei prima era uscito il simulatore dove dovevamo portare i soldi dai eh bravo bravo cioè bravo nel senso dovremmo portare i soldi però merda occhio al cecchino occhio al cecchino corri 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 vai vai ti seguo ti seguo vai vai grande merda oh ok e dovremmo annappiare gli altri soldi sono succeduto un magello signori panico allora quello che l'aveva lasciati nel vicolo ti arrepiati no stanno qua arrivo arrivo ti porto gli altri in più dai dai che li abbiamo presi aspetta ce ne possiamo anche andare però che vogliamo fa se d'amo no non butta i soldi ah ok ah grande li lascio nello di carico bravissimi vedi la coordinazione vai vai merda però sarò là attenzione ah damose damose oh uno è morto proprio mo no però forse ce l'abbiamo fatta scappa eh perché dobbiamo stare tutti là vicini eh uno è morto nel nel finale però dai abbiamo piato pure un po' di soldi calcolate che questa è la primissima partita signori non ho mai giocato è la prima volta che riesco a entrare in questa beta e figo però figo certo naturalmente poi con l'italiano che magari le spiegazioni le dà un po' meglio nella foga non ti ci aspichi eh allo stesso tempo magari coordinarsi con gli altri potrebbe essere molto ma molto interessante eh beh signori calcolando anche che uscirà sul game pass insomma si potrebbe organizzare qualcosa per le live non lo so io vedrò magari di provicchiare ancora questa eh beta come detto non sono riuscito tanto a giocare cioè nel senso stavano preparando i server una volta ho provato e era ancora work in progress quindi anche voi se qualche volta hanno riuscito a connettervi provate riprovate magari certo sono pochi giorni nel mentre non so quando riuscirò a postare questo video se sarà già finita la beta però la beta è fatta appunto anche per provare i server eccetera eccetera eh secondo me potrebbe essere intrigante da fare in live magari ditemi anche la vostra qui sotto nei commenti se avete giocato i precedenti e se state provando la beta di questo qui eh poi quando uscirà a settembre se non sbaglio come vi dicevo credo il 21 se non mi sono sbagliato che mo' con tutte le uscite cioè della confusion nella mia testa eh però figo figo secondo me organizzarsi potrebbe essere interessante e divertente ragazzi dai noi ci vediamo con i prossimi video con le prossime cose fatemi sapere la vostra ci vediamo ai prossimi appuntamenti seguitemi anche sull'altro super live secondo canale instagram eccetera ciao ragazzi